Besagnin e Magellà, o Magellà e Besagnin. Un Magellà è un acellaio, un Besagnin è il venditore di verdure, il verduraio. Un Magellà, che non aveva nessuno in bottega, deserto di sabato pomeriggio, il deserto dei tartari, avevo il ciupa ciupa in bocca, col bastoncino che spunta, dico guarda, fammi comprare, mica posso mettere la mascherina con sta cosa in bocca, eh no, mi ha chiesto la cortesia di metterlo in un fazzoletto, di metterlo in tasca, va bene Magellà, va bene, guarda, tanto l'ego non esiste, cosa vuoi che me ne frega, mica ne faccio una questione di orgoglio, va bene, metto via il ciupa ciupa, il lecca lecca col bastoncino, lo metto nel fazzoletto, nella tasca, e poi mentre ero lì, che compravo, perché ormai ero lì, perché non mi vede più il Magellà, non mi vede più, non ha capito, non ha capito il Magellà, che ho vicino a casa, lui deve trattarmi bene, perché se non ci siamo noi che compriamo, caro Magellà, tighe, destacca, ebbene, questo Magellà e questo Besagnin, che sono riusciti a lavorare lo stesso, mentre tutti gli altri, dite loro i loro stessi di rimpetta, il bar di fronte chiuso, questo Besagnin, Magellà, che come tutte queste partite IVA, chiederanno il Ristori anche loro, sì sì, il Ristori li può chiedere, sia chi è aperto, sia chi è chiuso, ripeto, il Ristori li può chiedere, sia chi è aperto, sia chi è chiuso, ben arriva il Besagnin, e che cosa dice? Eh, si vede che hanno chiuso le spiagge, sono tutti qua in cima da noi, a farsi le passeggiate, è tutta colpa di questa gente, se siamo ridotti così. Eh già, come a marzo, anche gli stessi ragionamenti, peccato che sono passati nove mesi, peccato che questa malattia si cura, Magellà, il Besagnin, mi accattare, non vengo giù, perché con i miei soldi, vado un po' dove mi pare, mi direte, ma anche da altre parti, vogliono che ti metti la mascherina, non te lo faranno lo stesso, togliere dalla bocca il ciupa ciupa, lo sapete che i ciupa ciupa, stanno per diventare illegali? Sono pericolosissimi questi lecca-lecca. Beh, però, se vado giù dall'altra parte, dall'altro Magellà, dall'altro Besagnin, beh, almeno il tabaccante, il ciupa ciupa, ce l'ha.